Ciao, ciao, diciamo che per due settimane ci siamo portati l'indispensabile. Che cosa hai trovato? Vino alla mandorla, sei un'ubriacuna, ti è piaciuto ieri quello che ho bevuto? Quello che ho bevuto, quello che ho mangiato, mamma mia. Dimelo. Io non capivo, io sto qua, non capivo com'era possibile questa volta di mangiare la granita a colazione. Mamma mia, ti prego, allora, aggilla e granita. Aggilla e granita? Tra un nitrito e un gelato. Esatto. La bambina dice, ho andato, non ha mai mangiato. La bambina dice, ho andato, non ha mai mangiato, non ha mai mangiato, non ha mai mangiato. Poi quella chiesa, con le colonne grandi, era bellissima. Poi ci siamo anche seduti là, dove tu di solito ti seguivi per lavorare a Kingdom Way. Sì, quando vivevo in Sicilia. Se non avete ancora cercato il bilaccio, fate. E adesso dove stiamo andando? Obviamente a fare colazione. Che c'è? No. Che c'è? Andiamo sbagliato. In che senso? Non era questo il bar. Guardate la disperazione di una donna. Di una tonna. Qua? Sì. E in pratica ci siamo fatti. Non solo 500 metri per la rima al mare, e poi alla fine. non ci stavano i lidi. Quindi se venite a... Come si chiama questo posto? Portopallo di Capopassero. Portopallo di Capopassero. Attenzione che il palo ve lo mettono in un altro posto. Perché non ci stanno lidi? Siccome io ho la pelle chiara e delicata. No, non ne ho vero. Non solo io, anche la mia finanzata che è una marroquina. Fa troppo caldo oggi. E volevamo stare un po' più comodi. Giusto? Sì. E quindi volevamo il Lido. Tra l'altro ci vanno un bumbietto esagerato. Perché vogliono 4 euro per il parcheggio adesso. Come ti sembra il cioccolato di morga? No, no, è buonissimo. È particolare. Sembra che c'è la sabbia. Cosa? Sembra che abbia la sabbia. La sabbia? Eh, è sabbioso. È sabbioso? Tanti granelli di sabbia messi insieme. Tanti granelli di sabbia di cioccolato messi insieme. Vabbè, ti piace? Mi piace. Meno male. Abbiamo assaggiato. A parte che abbiamo mangiato il cannello più buono della nostra vita. Mamma mia, ma davvero? Buonissimo. Poi abbiamo mangiato il cioccolato, il capironcino e il cioccolato alla vanillia. A presto.